Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A11 fare attenzione per personale su strada tra Alto Pascio e Capannori in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Tavarnelle e San Donato in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia chiusura di una corsia per lavori tra Gavorrano e Scarlino Scalo in direzione Genova. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per lavori tra Pisa e Dogana Nuova in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola chiusa una corsia per lavori tra Scopeti e Sandetole in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!